Fase di calcio a mercato interlocutoria per il Pescara che ora si sta concentrando su operazioni minori in collaborazione con il Fano. Ai marchigiani allenati da Massimo Epifani e con Antonio Bocchetti, direttore sportivo, come detto ieri sono approdati il difensore Alessandro Celli, l'esterno d'attacco Fabio Morselli. E' stato poi aggiunto il centrocampista Luca Daniele Scimia, tutti in prestito. Saranno seguiti da Simone Tascone, altro centrocampista che sarà acquistato dal Genoa e dato in prestito al Fano. Ufficiale la cessione a titolo definitivo del portiere Luca Savelloni al Rende in Serie C, per lui contratto biennale. D'altro canto il Delfino ha messo le mani sul centravantista legalese classe 2000 Papa Sambussar che firmerà un triennale. La squadra invece lavora quasi al gran completo, dopo l'Under-19 si attendono gli arrivi di Melegoni e Capone, quest'ultimo ieri in gol contro il Portogallo. Pillon ad oggi si è dichiarato soddisfatto della rosa a disposizione, ma il mercato chiuderà tra un mese e le dinamiche sono imprevedibili. Un'offerta importante può comportare una cessione. Oltre alla situazione Canutè, che comunque non si è mai visto in ritiro, Zampano, Brugman, Macin, Cocco potrebbero uscire da un momento all'altro. E in quel caso il V8 della rosa dovrebbe essere colmato. Ma potrebbe accadere anche il contrario. Una improvvisa opportunità di mercato, come poteva essere lo svincolato d'ufficio galano, può portare ad un'entrata a cui corrisponderà una uscita quasi forzata per evitare esuberi. E anche su questo pillone è stato chiaro. Voglio una rosa da 24-25 giocatori, così ha dichiarato lunedì scorso. È evidente che rispetto a 12 mesi fa sarà più semplice raggiungere questo obiettivo, cosa che non accadde con Zeman per via dei tanti contratti e di una rosa extra large. Intanto c'è attesa per le prime uscite stagionali del Delfino, che caratterizzeranno la prossima settimana. Si parte da domenica 22 luglio, ore 17, a Palena, contro la Delfino Flacco Porto, neopromossa in eccellenza. Poi giovedì 26, sempre a Palena, ore 17, la classica amichevole estiva contro il teramo del patrone Luciano Campitelli. Sabato 28, il Pescara salutera Palena e farà ritorno sulla costa, disputando un triangolare al Mariani Pavone di Pineto, ore 20 e 30, contro la locale formazione del patron Silvio Brocco e Delfano. Sul fronte campagna abbonamenti, domenica alle ore 20, si chiuderà la fase dedicata all'esercizio del diritto di prelazione per gli abbonati dello scorso anno. Da lunedì alle ore 10, il via alla vendita libera delle tessere.